Vedete 0 Hz e poi magari lo portate a 1 Hz quindi Tauro sta vibrando e questa molla cosa fa? Quindi vedete che c'è una costante elastica che in questo caso vale 10 Nm forse con lo schermo fianco si vede meglio l'olio dei poveri no? Vedete questa massa? Perché il tavolo si sta spostando potrei anche aumentare l'ampiezza Aumento l'ampiezza dell'escursione del tavolo rinuncio a misurarlo Questa massa non fa granché perché non si muove? Perché quella si muove tantissimo? E' in programma eh? Dovete sapere dire orale Io sto aumentando la frequenza un attimo, prima sborso tutto vedete che c'è la costante di sborzamento sborso tutto così e poi riacendo è la 5 che sta andando via di matto questo se avessi stato più intelligente se facevano un cursore lineare mi stupisce che voi irriviate non capisco perché irriviate sborso un po' perché è troppo violenta il fenomeno se metto una frequenza elevatissima vediamo quando hanno riscosso il massimo questo non si muove neanche Diminuisco lo sborzamento sborso tutto perché chiaramente una volta che li metto in moto chi li ferma più quindi voglio fermarli un attimo adesso tolgo la costante e vediamo chi si dà da fare guarda questo qua wow è la 1 che sta andando via di matto adesso sborso un attimo perché la 1 voglio che si comporti sborso fermati il sesamo adesso è la 2 che sta andando via un po' la 2 mi sembra che si sta spostando molto più degli altri il comportamento è un po' strano aumentiamo ancora adesso è la 3 adesso è la 4 ovviamente la 3 devo fermarlo perché se no adesso è la 5 e via di matto io ho giocato con la frequenza riesco a eccitare è il linguaggio ragazzi come dei bacacchi ridono anche senza sapere perché è risonanza questo si chiama il fenomeno della risonanza guardatelo, cercatelo martedì lo discutiamo ma almeno avete un'anticipazione e l'ho fatto questo con la molla vi ricordate? ricordate la pallina con la molla? quando era attaccata la massa sulla molla se io muovevo la molla lentamente la pallina saliva e scendeva come la mia mano se mi avevo una frequenza molto alta si la molla era un po' eccitata in maniera strana ma la massa se spegnevamo la luce non faceva granché ma se beccavo la frequenza giusta riuscivo a far fare alla massa pur spostando di poco la mia mano e su movimenti molto spettacolari devo beccare la frequenza giusta quindi qua ho beccato la frequenza giusta per eccitare questo questo qua è una frequenza che non lo eccita a voi siete pieno di ormoni questo non è eccitato ma chi è che è molto eccitato? cambia la frequenza chi è che viene eccitato cambia risonanza va bene torniamo alla lezione frontale si chiama resonance questa è la versione in inglese vedete underscore forse c'è la versione italiana e lo prendete dal sito FET P H E T ce ne sono tanti ce ne sono carini ce ne sono carini c'è questo che vorrei farvi vedere perchè lo discuteremo mentre il fine del corso se non muoio prima vi ricordate quando io avevo la massa la molla con la massa qua ero salita sul tavolo non sul tavolo, sulla sedia e avevo lasciato la presa e la massa stava ferma finchè l'informazione che avevo mollato la presa non gli era arrivata e come l'informazione come gli arriva? attraverso la propagazione di questa onda elastica cioè la presa di molla che gli arriva finchè l'informazione non gli arriva che non c'è più qualcosa che sostiene lui è la non sa ancora del fatto che nessuno lo sostenga e come credo avervi detto se Dio decidesse in questo istante di spegnere il sole noi abbiamo circa 8 minuti e non ci accorgiamo finchè l'informazione che il sole che si è spento noi vediamo il sole cioè di spegnere il tempo per propagare allora guardate questo qua vediamo se questo è fermo in questo momento adesso io farò manual ok e lo sposto tac guardate le linee ferme che non sanno ancora che ho spostato la carica questo guardate lo so fissatevi su questo punto qui distante questo punto non sa che io ho spostato la carica finchè non gli arriva l'informazione no? è come l'increspatura su una corda vedete? ma facciamo un'altra versione dove magari è in moto facciamo tac 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 facciamo com'è che si fa? non mi credo più io voglio che si muova show velocity com'è che si imposta la velocità questo è stop charge io voglio che sia in moto facciamo lineare ok ero fermo pronti? vedete? vedete? voglio che faccia il giro facciamo di nuovo ah no lineare ecco qua facciamo che guardate questo punto qua su lui crede di dover puntare sempre dove è la carica ok? lui sa in anticipo lui sa questo signore qua sa che deve puntare qua vedete? ma se io bloccherò questo questo signore crede ancora di dover puntare dove si aspetta che la carica sarà ma se io l'ho bloccata lui punta in un posto dove la carica non si non si dai il disegno va alle mie parole al di là delle mie abilità me lo fermo vedete? le linee fuori non sanno che si è fermata non sanno che si è fermata non è una figata sinusoidale sinusoidale circolare bam perché non fa un altro bam fa un unico bam 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 io quello lo trovo più affascinante è questo dove si ferma io lo trovo veramente bello che lui che i punti distanti cioè io sono qua con un mio dipolino elettrico e qualcuno mi ha detto io so che la carica si sta spostando quindi io punto sempre dove sarà la carica poi io continuo a puntare dove credendo che sia però qualcuno l'ha già bloccato io la trovo veramente affigata cioè a distanza di anni a me viene la pelle d'oca questo gioco bello eh? chi è lontano vede ancora il campo oscillare non gli è ancora arrivata l'informazione che hanno spettato la radio il sole no? questo è se volete è la metafora no? il sole che sta buttando fuori luce e noi siamo qua allegri che ci prendiamo la tintarella poi il Dio fa basta mi sono otto i coglioni e per otto minuti per otto minuti non li continuiamo a prendere ne avrebbe buoni motivi per spegnere scuola wow che fanno questo merita a essere vista anche se non è guardate questo è a velocità vedete lo speed è a mezza C cioè è a metà la velocità della luce molto lento ovviamente l'ho fermato facciamolo ripartire ecco questo è un campo molto lento 14% la velocità della luce vedete? adesso se io mando questo cursore il valore è quasi più alto che c'è ovviamente non sarà C ma 90% 99% il guaio è che si muove forse c'è un modo per rallentare la presentazione non vedo non vedo un cursore che mi permette di rallentare perchè andrà così veloce che nel suo disegnare le linee non riuscirà ancora a disegnare qua fuori quindi dovete cercare di capire cosa succede guardate un attimo vediamo di aumentare intanto fermiamo e aumentiamo la velocità linea vale ok al massimo adesso lasciamo che si aggiorni però vedete quello che ovviamente non se la fa ma forse dovete riuscire a cogliere come le linee sembrano più addensate non è così bello simmetrico le linee di campo non sono così simetriche come quando la carica è ferma adesso magari la fermo per il prossimo giro vedete come sono più simmetriche no? invece quando la particella va molto veloce il campo perpendicolare è più forte no? vi ricordate? c'è una dipendenza angolare come vi avevo anticipato quindi di nuovo manual, linear, manual purtroppo è molto forte il campo perpendicolare al moto ed è debole nella direzione del moto invece quando la velocità è molto più bassa il campo è più simmetrico a rigore quando è perfettamente fermo il campo è simmetrico questo è il campo colombiano a velocità diverse da zero il campo non è rigorosamente colombiano e la non colombianità peggiora con l'aumento della velocità non è colombiano nel senso che è molto più forte il campo c'è una dipendenza angolare d'accordo? a 90 gradi la particella del campo è più forte addirittura se la particella se si potesse rappresentare il campo elettrico di una particella che aveva una velocità molto elevata quasi vicino alla velocità della luce il campo elettrico davanti e dietro è zero ed è tutto concentrato a 90 gradi è come dare una sberla cioè vi arriva una sberla di campo elettrico tutto un colpo invece qui in qualche modo il campo elettrico vi arriva con gradualità invece quando è molto veloce è come avere tutte quelle linee che sono messe così rispetto alla direzione del moto e quindi è come un muro di campo elettrico e chi si vede arrivare a questo prende una bella sberla ok basta giocate con questo è carino e potete forse anche capire vabbè questo è molto bello stop charge l'abbiamo fatto scusate se ho perso il tempo però ce ne sono di molto carini ce ne sono di molto carini il pendulum i modi normali il generatore cos'è il generatore? non ricordo più queste sono le montagne del Colorado avete il rubinetto che fa girare il campo magnetico e vedete la corrente questa è una legge di Faraday che faremo la prossima settimana carino no? grazioso non leggo qua perchè è in blu così c'è scritto bobina ah questa spostate se il magneto è fermo non fa circolare le correnti ma se ho un campo magnetico variabile del tempo ho una circuitazione la circuitazione di E non è zero e quindi se c'è un portatore di carica lui sente un campo elettrico e si mette a muoversi ma basta che il campo magnetico non cambi più che sparisce l'effetto riuscite a leggerlo? e dov'è l'interruttore? c'è un interruttore qua? forse questo? non riesco a vedere ma questo serve per... va beh questo trasformatore generatore questo abbiamo già fatto ce ne sono gli altri carini questo è quello che ho fatto prima questo è carino calculus grapher non credo di perdere tempo forse si ma forse no questo è molto carino questo forse era degno di chi ha fatto le scuole superiori o non ha fatto matematica in maniera decente e vi permette di disegnare per esempio l'integrale e la curva questa è la funzione che io creerò con varie opzioni e mi farà l'integrale e mi farà la derivata quindi per esempio prendo un grafico di questo tipo e me lo alzo ecco questo è l'integrale vi ricordate i famosi grafici dove facevamo le forze impulsive? l'integrale e la derivata invece siccome è molto ripida ho una derivata molto ripida se invece di fare questo faccio magari un triangolo ecco vedete questa derivata che è più smussata e l'integrale è così poi posso aggiungere un tit vediamo questo non mi ricordo più come funziona vediamo eccolo qua vedete? posso aumentare vedete che sto aumentando anche la derivata di una quantità costante vedete? come la derivata è salzata esattamente la quantità costante perchè lo metto su una retta vedete? carino questo questo è così come si fa? facciamo undo smooth zero zero facciamo questo track ok? questa è una funzione strana undo zero questa come funziona? free form allora questa è la derivata e questa è la di pegare fuori schermo undo carino no? eh è veramente una figata super gamma ah che bello giocateci così riuscite di nuovo ad acquisire quello che dovreste già avere una specie di intuito di pancia di come devono funzionare le cose lo trovo molto bello questo programma poi ce n'è un altro vediamo se lo trovo sshhhh faccio tutta fatica a leggere anche parole così grandi i miei occhi sono proprio da buttare il pendolo vabbè dai questo è grazioso oracle oracle non oracle come ho sentito il collega a dire oracle sshhhh goal banale no? questo è banale questo è banale siccome questo è un esercizio di elettrostatica posso comunque convertirlo in uno di gravitazione adesso sposto questo così lui entra in orbita però a ben guardare questo programma probabilmente commette un errore numerico perchè se questo fosse veramente una forza 1 su R quadro quella elisse non dovrebbe precedere invece se la guardate precede cos'è la precessione degli elissi? quindi guardiamolo un attimo l'elisse qua vediamo dov'è quindi io vedo l'elisse così in qualche modo dopo un po' un'elisse vero cioè Newton ha dimostrato che se la forza tra il sole e un pianeta fosse esattamente 1 su R quadro allora il pianeta dovrebbe fare una sezione conica in particolare per esempio un'elisse con il sole ha un fuoco d'accordo? ma se la forza non è esattamente 1 su R2 se è 1 su R2,0001 questo asse dell'elisse non rimane fermo dello spazio ma comincia a cambiare quindi lentamente adesso disegnarlo è un'impresa lentamente fa così l'asse dell'elisse continua a cambiare se non è proprio 2 ma 2 è matematico e non lo è quindi secondo me è un errore di arrotondamento vedete che l'asse secondo me è cambiato poi uno può simulare l'effetto di avere un altro pianeta per esempio un problema ha 3 corpi 1,2 e mettiamo un terzo spostiamo un attimo perché non voglio che urti cosa farà? cercare di prevedere cosa fa riuscirà adesso a ripassare sull'altro? il fatto che è quasi imprevedibile avete sentito parlare del caos? qualcuno ha sentito parlare del caos? il caos è una disciplina di fisica e matematica cioè che c'è un'estrema sensibilità alle condizioni iniziali avete forse sentito dire che un battito di una farfalla in Brasile crea un... quindi non è prevedibile cosa farà questo passerebbe un piccolo spostamento che cambia tutto perdiamo la capacità di prevedere cosa succede? va bene, è un problema a 4 corpi? andrà il terzo? quando? ecco e questo esercizio qua è interessante perché a un certo momento verso la fine del XIX secolo la gente un po' aveva intuito che un conto ideale di Newton di un oggetto e un problema a due corpi ma mettere tre corpi o quattro corpi o n corpi era un problema matematico complesso e qualcuno fece una gara chiese vi do un premio diventerete famosi matematici se riuscite a risolvere il problema a più corpi e Poincaré eh? Poincaré dimostrò dimostrò che il problema era grave perché la gente si è posto questo ma noi siamo in un sistema solare con un sacco di corpi sono otto pianeti Plutone è stato declassato ci sono un sacco di asteroidi chi ci garantisce che la Terra continuerà per ancora un tempo utile a noi a vivere e ai nostri figli a rimanere sulla stessa orbita non potrebbe ricevere una piccola perturbazione e noi non prevedere più l'orbita della Terra? eh? quindi è quasi impossibile prevedere cosa fa questo e la gente ha detto ma ostri cazzo tutto in un tratto la Terra esce dalla sua orbita va troppo vicino al sole moriamo di caldo ossia lontano moriamo di freddo eh? e questo problema è reale perché è quello che rende gli asteroidi così pericolosi perché un asteroide magari fa una traiettoria abbastanza ripetitiva sembra non essere mai pericoloso poi per caso passa vicino a un asteroide che magari non gli era passato accanto per centinaia di milioni di anni riceve una deviazione e viene proprio verso la Terra siamo due morti quindi prevedere cosa fanno gli asteroidi è un guaio perché sono tanti va bene perché ho voluto fare questo? l'ultima che voglio fare poi voglio riprendere perché l'ultima che voglio fare è molto semplice questo è qualcosa che potrebbe essere utile per voi quando farete un corso di sperimentazione avete una serie di dati per esempio dato points un punto qua 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 e questa mi sta cercando di tirare il best fit cos'è il best fit? è la retta che meglio interpola i punti ma uno dice no fit prima mettiamo i punti così uno prende dei dati così non so magari in qualche laboratorio farete la verifica sperimentale della legge di Ohm e uno dice ma ho verificato la legge di Ohm che dice che dovrebbe essere una retta uno dice linear fit eccolo la ma supponete che avete un dato che è qui cosa farà il fit? vedete il fit all'affittante facciamo una quadratica guardate un attimo vedete facciamo i punti così ovviamente una retta fa schifo perché fa schifo? una quadratica? un po' meglio qua giù c'è una valutazione della significanza statistica del fit se io metto i punti proprio sulla retta vedete che diventa verde quando i punti sono troppo fuori vuol dire che forse la parabola non è granché come fitante forse proviamo un polinomio una zona acquatica ah vedete forse la curva che meglio interpreta i punti è la quadratica ok? va bene basta guardate giocateci io lo trovo estremamente istruttivo questo magari l'avessi avuto al primo anno in università avrei capito un po' lo spirito di cosa vuol dire fare un esperimento voi avete dei dati poi dovete trovare la curva che meglio interpreta i dati interpola, interpreta qual'è il modello matematico che meglio descrive i dati è una retta o una quadratica e la bontà del modello dipenderà da come i punti sono messi se questo punto qua che sto per raggiungere per esempio io ho questa affittante che bello che bello ho scoperto una nuova legge è una quartica ecco l'equazione qua giù vedete che è una quartica vi da i valori di A, B, C, D ed E credo aver fatto la scoperta sto per andare a consigliare la mia relazione il docente del corso o qualcosa del genere e quanti dati ho preso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dico ma per scoperto prendo un altro dato magari un altro dato in questo valore di x se io ripeto la misura qua in x riterò lo stesso valore di y faccio un altro punto e ottengo questo ottengo questo mi cambia tutto e addirittura è diventato rosso non è più una buona interpolante va bene lascio a voi giocare e pensare torniamo alla lezione grazie 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 Molto veloce Per cortesia Ok? Allora Consideriamo questo elemento di corrente qua Questo dl qua Lo fa sedentare un vettore Dove metto la freccia? Siccome sto dicendo che la corrente gira in senso Non so se l'ho detto mai La corrente sta girando in senso anti-orario Quindi la punta della freccia la metto qua Chi è UDR? UDR va dall'elemento di corrente al punto matematico Questo è un altro punto Un altro elemento di corrente Boom Non so se ve l'ho detto Ma quando ero piccolo Io ricordo che mi è venuto in mente proprio stamattina Perché c'erano tuoni nell'altro gruppo Durante la lezione di mattina E io mi ricordo molto bene Ma avrò Sono stato il secondo elementare Quindi avrò avuto 8 anni 6 anni Che eravamo in classe Stava arrivando una tempesta elettrica E l'insegnante ci aveva fatto notare Che quando vedevamo il lampo Il suono del tuono arrivava in ritardo E allora noi ci divertivamo a contare i secondi Quindi Lampo! 1 2 3 4 5 Lampo! 1 2 3 Lampo! 3 4 5 Eravamo lì per dire 1 Che ci fu il botto Il lampo era proprio sopra la scuola Qui dovete immaginare una classe di 25 bambini Di 6 o 7 anni Che sono là Che credo di incontrare ancora E di avere sorpreso dal botto Tutti da saltare E mi ricordo benissimo Cioè Forse fu lì che mi appassionai Non capisco tutta questa agitazione Evidentemente mostrare queste cose Vi ha distratto Quindi non lo farò più No! No! Perché vi comportate come bambini Della seconda della metà 90 gradi Perché sono 90 gradi? Perché è un cerchio Le dl sono tangenziali E le u Vanno verso il centro del cerchio Perché un cerchio è fatto così Quindi Se io vi chiedo Qual è la direzione di b Voi cosa fate? Prendete la mano destra E scegliete per esempio questo qua La dl Siccome dovete fare dl prodotto U Fate così Così Ed esce Quindi in questo punto In questo punto Il campo magnetico creato da questo elemento di filo Esce In questo punto Il campo creato da questo elemento di filo Esce In questo punto Il campo magnetico creato da questo elemento di filo Esce Esce Il campo creato da qui Esce Quindi tutti i punti Creerò In questo punto Un campo uscente Quindi la risultante Che direzione avrà? Uscente Ed è facile ricordare questo risultato Perché sciogliete la mano destra Mettete le dita nella direzione della corrente E guardate il pollice Quindi il campo magnetico qui sta uscendo Quindi se questa è la vista Questo rappresenta il vostro occhio E state guardando lateralmente Con la corrente che esce Vedete la corrente che entra E la corrente che esce Il campo magnetico qua è una freccia Che è così La direzione Adesso dobbiamo parlare del modulo No? Perché adesso vi da la direzione E vi da anche il modulo E qual'è il modulo di questo? Beh ovviamente Avete a prendere il modulo di questo E il modulo di quello cos'è? Il modulo di questo Come tutti dovrebbero sapere Vedete come ogni argomento Occasioni per ripassare Ce ne sono a bizzeffe Se uno non sa queste cose Vuol dire che è proprio delle lacune Qual'è il modulo di un prodotto vettore? E' il prodotto dei moduli Per il seno dell'angolo Non è il prodotto scalare Ricordate che il prodotto vettore Serve che i vettori siano storti Quindi dovete individuare In un parallelogrammo Che l'area è massima Quando le frecce sono 90 gradi Se chiudete l'angolo L'area diminuisce Quando chiudete l'angolo L'area del programma Collassa a zero Dove devono essere storti Per individuare il parallelogrammo Questo quant'è? Qual'è il modulo di U? Uno! E' un vessore no? Qual'è questo? In questo esercizio L'angolo è sempre di 90 gradi Perchè le DL sono sempre a 90 gradi Rispetto alle U Le U vanno verso il centro del cerchio Le DL sono tangenziali Quindi questo vale uno Per questo esercizio vale uno Quindi vedete che il modulo Di questa parte qui Cos'è? E' proprio Diciamo Il modulo di DL Ed è anche senza la freccia sopra Per i DL Senza la freccia sopra Ok? Altra cosa Guardate il denominatore Cos'è questo? Quello rappresenta la distanza Dall'elemento di corrente Al punto matematico Siccome il punto matematico È al centro del cerchio E il cerchio cos'è? E' il luogo di punti Che hanno la stessa distanza dal punto Chiamato centro Quindi Tutti questi elementi di corrente Hanno la stessa distanza dal centro La distanza la chiamiamo Che so? R il raggio del cerchio Allora Quindi Questo qua In realtà E' uguale a R quadrato Quindi in realtà In modulo di B Potete pensare così Come mu 0 E diviso 4 pi greco Porto fuori dal simbolo Dall'integrale Questo E mi rimane da fare questo E cos'è questo a fare qua? Cos'è questo? Quello è la somma delle lunghezze Dei frattini del cerchio Cioè è la circonferenza del cerchio Giusto? Questo lo porto fuori dal simbolo Dall'integrale Perchè non dipende da niente È una costante Tutti i punti hanno la stessa distanza Questo è 2 pi greco R E concludete che il campo magnetico Al centro Vedete che il pi greco qua giù va via Questa R si mangia uno di questi Questo 2 si mangia un 2 là E quindi avete mu 0 I diviso 2 R Zambola molto importante Perchè è la classica domanda che faccio E vorrei che sia chiaro Con il mio tink Adesso che voi scriviate giù Il campo magnetico creato da un filo rettilineo E il campo magnetico al centro di una spira circolare Vi scrivete sullo stesso video di carta Per cortesia E non li confondiate mai Perchè il campo magnetico creato da un filo rettilineo In un punto cos'è? Se questa è la distanza chiamiamola D E il campo magnetico Il modulo si intende È uguale a mu 0 I diviso 2 pi greco D La spira circolare Lo scritto là in fondo Qual è la differenza tra queste? Tutta la differenza del mondo Questa è una retta Questa è un cerchio Perchè gli studenti li confondono queste due equazioni? Sono molto simili D'accordo? Ma non è un buon motivo per confonderli Questo è il buon 0 diviso 2 pi greco D Qual è la differenza? Se non si fosse La non c'è il pi greco Prima cosa Ma sono diverse Non solo perchè non c'è il pi greco Sono diverse perchè la geometria Ed esercizio completamente diverso Questo è un filo rettilineo Quello è un filo circolare Ed è il valore al centro della spira Quindi non venite a fare confusione Tra questi due Vi ho dato un modo per ricavare questo Usando la legge di Ampere E i ragionamenti di simmetria Quello l'abbiamo ottenuto con la legge di osservare Sono due approcci completamente diversi Certo che io potrei chiedervi Ottenete il campo qui con la legge di osservare Sapreste in grado di farlo? Magari lo facciamo martedì Ma sarà in programma? Perchè deve essere chiaro Il mio tic Che i ragionamenti di simmetria Tipo qual è il campo elettrico di un punto O di una sfera O di un cilindro infinito O di un piano Si riesce a ricavarli Usando ragionamenti di simmetria La legge di Gauss O questo l'abbiamo ricavato Usando ragionamenti di simmetria Ma mica sempre Anzi credo che ci sono i pochissimi casi In cui si riesce a ragionare così Perchè questo filo qua Qual cavolo? Potete ragionare in termini di simmetria E se volete il campo magnetico In questo punto qua Dovete fare questo integrale L'ho cancellato Dovete fare l'integrale di Biosavara Se questo è un filo di carica Che non è affatto un filo rettilineo Volete il campo elettrico a questo punto Cosa dovete fare? Dovete fare un integrale Di tutti i contributi del campo elettrico O del potenziale elettrostatico In quel punto E quindi La difficoltà dell'esercizio Non è di fisica Ma è di matematica Saper fare integrali E magari un paio di questi esercizi Li faremo assieme Ma non sarà quello l'esame orale L'esame orale sarà la fisica Magari su qualche scritta D'accordo? Allora Per completare Questo discorso Almeno completare Non è la parola giù Per completare questa introduzione Martedì Devo prima rimediare una batteria C'è il rischio che mi dimentichi La mia batteria è scarica Ho una batteria da 6 volt Quelli che sono atti così E devo trovare il tempo Di andare a comprarne uno Però spero Con una batteria Qualche filo Ho un avvolgimento Ho una spira E ho delle bussole Ok? E le bussole Silenzio Le bussole Sono delle sonde Con cui vedere La forma del campo magnetico Quindi Se questo è l'asse della spira Questo è l'asse della spira circolare Se io metto la bussola qua La bussola sarà orientata così Se io metto la bussola qua La bussola sarà orientata così Ma se io metto la bussola qua Come sarà orientata? Come sarà orientata? E quindi con le bussole Durante la pausa Quelli che hanno più interesse A farlo Sposteranno la bussola E vedranno In ogni punto dello spazio A seconda di come è orientata La bussola Riusciranno forse a visualizzare Il campo magnetico Io adesso traccio un po' a mano libera Riprodotto molto meglio nei libri Magari perchè la figura Fatto nel libro È stato generato dal computer Invece io sto usando il mio Che non è granché Io traccerò le linee di campo Di nuovo Cos'è una linea di campo? La linea di campo è un'indicazione Se voi piazzate qua un dipolo Che sia elettico o magnetico Se questa è una linea di campo elettico O una linea di campo magnetico Il dipolo si orienterà così Se la piazzate qua si orienterà così Se la piazzate qua si orienterà così È un modo per visualizzare Quindi io traccerò delle linee E dovete interpretarle in quel modo E dovrei cercare di fare qualcosa simmetrico Di qua che è ben più difficile no? È accettabile E con una certa precisione Cosa vuol dire? Che quando io metto la bussola Questo mi sembra eccessivo Quando io metto la bussola qua Sarà così Quando la metto qua Sarà così Quando la metto qua Sarà così Quando la metto qua Sarà così Sarà così Sarà comì Sarà così Sarà così Sarà così Sarà così Sarà così Sarà così Morale Perché le linee di campo magnetico voi potete seguirle con una bussola per vedere dove girano e potete fare, se volete, delle curve che non nascono o muoiono da nessuna parte A differenza, se io prendo invece il mio semento d'erba o il mio dipolo elettrico e lo piazzo vicino a una sorgente elettrica Quando lo metto qua avrò la carica positiva del mio dipolo qui e la carica negativa qua Anzi, piuttosto di disegnare Silenzio, se no mi fermo qua Se volete che mi fermi, mi fermo E allora? E allora? Ho finito? Allora continuo a parlare Questo è il dipolo, io lo rappresento come una freccia Come la freccia della bussola Quando lo metto qua la freccia sarà così Quando lo metto qua la freccia sarà così Quando lo metto qua la freccia è così Cosa vedete? Il campo diverge Qua Ok? Qua le linee di campo escono Qua le linee di campo è più intenso Qua le linee sono più lontane il campo è più debole Cattura la legge di Gauss Il numero di linee è costante Dipendente da un cerchio chiuso 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 E' carino come idea Però per me la potenza grafica Artistica è maggiore Se ragionate in termini del dipolo Perché vi dice come si sta incurvando Questi qua sono dei linee Adesso potete fare il cazzo che volete Ah ho finito la lezione Però forse avete sentito dire Che ci sono dei materiali molto speciali Con cui si infilano dei guanti E si riesce a toccare i campi magnetici Cioè voi perché essenzialmente Sono dei materiali super conduttori C'erano dei fenomeni fisici Abbastanza interessanti Che non sto a dire Però nel guanto ci sono dei materiali Che reagiscono al campo magnetico E voi sentite come una forza Quindi con una specie di Qual è questo gergo Hyper reality per realtà Cioè voi avete questi visori E siete completamente tolti Dalla realtà normale E avete solo questi guanti E queste visualizzazioni E voi potete toccare Perché la mano sente una forza Quando c'è un campo magnetico intenso Il guanto reagisce E voi sentite una resistenza E quindi è come se voi riusciste a toccare Quindi in un certo senso Queste bussole vi permettono Proprio di toccare il campo Di seguirlo Chi ha mai fatto questo in vita propria? Ha mai preso una bussola E giocato vicino a un magnete? Non l'avete mai fatto? Ho sentito dei sì e dei no Voglio vedere i no Alzino la mano Un terzo? Metà? Ok ci vediamo martedì